Buongiorno a tutti, sono Showman Geno, questo è un nuovo video di Pokemon Diamantina in off camera, ho allenato i miei Pokemon, per sbagliare il mio Shinz si è brutto, l'ho portato fino a livello 15 ma c'è più fino a livello 16, dai sono quasi uguali a Monferno, ok noi continuiamo l'avventura Mi so che io l'ho già giocato a Platina simile al Diamante, che si deve andare di qua che c'è Team Galassia Recute basta scrittare, sgancia quel miele, recute fa come diciamo, quel miele sarà Team Galassia, se per tirare le guendite di Pokemon Uh, questo Diamante ha sentito che si fa, impossibilmente che ve la chiede aiuto, facciamo in modo che tenga la bocca chiusa, no voglio Team Galassia Per, per, one ball Sapessi come è blu, livello 9, affronta proprio nel livello 19, allora Ehm, ruota a fuoco Vediamo se muore ragazzi E muore, vabbè, 10 livelli di differenza mi sembra il minimo Sì, il Kun E va bene, che la evoluzione dopo alla fine Vuoi le recute Se riusciamo a provare a catturare un nuovo Pokemon Per sbaglio, i Pokemon, solo questa volta si è, nello scorso episodio per sbaglio ne ho catturato uno ma, dovevamo fare la palestra quindi, non potevamo allenarlo Anche se lo catturavamo La prima recuta sconfitta Ah, tu sei mortati perché ho affrontato i tuoi compagni, vediamo Zubat, misera Che è più grande di un livello, no no, un livello 11 Tu sei che sei degno E avrai ruota a fuoco Quando diventerò un livello 36 Quanto sarà bello E muore Uh, forse arriva a livello 20 Sì, Monferno a livello 20 Che bello Ho battuto quelli di Tingalassia Grazie per i soldi Questa è forte, molto forte Non è che tu vai a fare giusto Di prendere il suo morto Non abbiamo più niente da fare questo Andiamo all'impianto Anni Oh, che... Sia, è una Turbine Deve essere per l'impianto dopo Ma non serve Puoi prendetela Turbine chiave Grazie, mi hai salvato Quei manini volerò male in mia decisione Certo che... Come vedi, c'erano delle cose senza senso Dove che c'è ancora cosa dai prendi Mi ha regalato il miele Può tra dei Pokémon Non sai... Vedete ragazzi Ora... Che abbiamo fatto questa parte In teoria... Beh, per me di tutto Cura i Pokémon Anche se non ci sarebbe bisogno Ma... Per i pipì Certo che faccio riposare la mia squadra Se riusciamo io direi che te lo hai un quarto Pokémon No... In teoria devi andare nella foresta Io... Un po' come... Nella foresta si andrà un po' con quelle ottero d'erba se non mi sbaglio Quindi sarà un po' se non mi perderò Io c'è una bambina ma... Ok... Un Pokémon della passione Ok... In teoria... Devo affrontare... Il pianto No... 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 Con te... Usa una mossa... Non sei degno della mia mossa più forte Eh... Quindi... Bracel Brac... Brucia pelo Mi hai tolto tanto... Mi tentegni eh... Bracel ti ho detto... Vediamo come resisti a un bel bracel Siamo a 9... Un PS Ce ne andiamo conto È rimasto un PS di vita... Bracelalo... Addio... Gremiavo... Ed è stato sconfitto... Addio... Recutare tingalassi... Sconfitta... Quattrocento quattro anni... Ma si vede... Così... Non puoi entrare... Se mi chiedo... Con la tua minchia... Infatti la tua minchia... Non è qui... I copani chissà... Non sono io da aver perso... Brac... Brac... Ah... Ho usato il minchia... Clic... Clac... Si è aperta... Entriamo... Allora... Sono entrato... Ho usato il minchia... Non so se l'hai registrato... Vediamo... Dalla equità... Mi manda un Pokémon... Cascone... Ancora che si... Cascone... Un livello 11... Monferdon... Tocca a te... Monferdon... Un livello 20... Cascone... Fa un bel bracere... Che... È morto... Super efficace... 169 punti... Vabbè... Non tanti... C'è un buon... Vincor... 440... In teoria... Devo affrontare... Ah... Un'altra recluta... No... L'ho saltata... Ok... Il comandante... Uno dei tre comandanti in galassi... Stiamo cercando di creare un modo migliore di colorioli... Ma all'inizio sembrava bene... Ossia... Ci vediamo molto di terrori... Che possiamo lottare... Per chiedersi... Cosa fa... Se il mio video te ne vai... In Gisù... Se ne vai te in galassi... Interessante... G... Ffff... La sfida contro... Il comandante... Che c'ha due Pokémon... Un Zubat... A livello 14... Posso che sei comandante... Accetta la sfida... Ti affronta con ogni volta a fuoco... Sono degni... Per te... Via Zubat... Adesso... I ciccioni... Gatti... Gatti ciccioni... Cos'è la... Paragli... Paragli... Si... Andiamo a che sto parlando... Livello... Del felino... C'è una... Ah... Brucia per... Maledessa... Ah... Mi fai tentennare... Ruota a fuoco... Oh... Finita è la mossa più forte di te... Non è molto efficace... Monferno usa ruota a fuoco... Bruciato... Gattino è bruciato... Eh... L'ho bruciato... Mi dispiace... Mi dispiace... E' un'altra finta... Dice che non è molto efficace... Ma... Io non lo vedo... Vabbè... Tre piedi... Monferno usa ruota a fuoco... Tutto colpo? No... Sicura per la vacca... Soffri per la scrittura... Allora... Se soffri per la scrittura... Graffio... Allora... Andiamo con le sfuriate... Addio... Battuto... 627 punti... L'ho portato a livello 21... Ho battuto il comandante... Ho perso... Tu vuoi essere avanti... 1280 soldi... Dai... Ho battuto il comandante... Tutto da... Utilizzare 2 me ne vada... Tutti in galassia... Ci hanno rivolto a quelli poloni... Non mi giro tutti i guassi... Ci hanno cercare... Perché erano... Lo rischio... Non ha molto senso per me... Non sai... Ci hanno cercare... La mia bambina... Ah... Questa... Prima... Hai papà... Senti... Senti... Un'udore... Ah... Sì... Ho dovuto... La mia bambina... Hai fatto scappare... Quelle persone cattive... Pesco che... Poi... 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 Non tornerà... Mmm... Tornerà poco un pallone... Non lo so... Adesso sciamola qua... No... Non mi sembra... Mmm... Un weasel? Sì... Ma è a livello 7... Che a me ne faccio... Dovrei allenarlo... Duramente in off camera... Che ci sia... Il proprio sbaglio... Allora... Ci rivediamo... Da... Allora... Ci rivediamo qua davanti... Ma li avrò già i Pokemon curati... Ok... Ragazzi... Eccomi qua... Ho curati i Pokemon... Andiamo avanti... Ecco... Perché... Questo è il bosco cui dovremmo andare... Ah... Nei boschi dei Vopoli... Ecco... Che poi li hanno arrivato... Le Vopoli... Ponita... Un po' con fuoco... Problema... Sto andando un po' con fuoco... Cosa è un problema? Eh... No... Neanche a 14... Un inferno al 21... Eh... Non posso usare i massifuoco... Alla sfuriata... Tac... Dai... Uccidi questo... Oh... Ti ho tratto tanti danni... Ti ho fatto tanto danni... Ponita eh... Ehm... Come... Fai lì... Oh... Mi ti sei permesso... Devi usare i sfuriata... Ecco... Uccidi il Ponita... Eh... È morto... Sì... Allì è ponita... Dai... Mi ha dato tanta esperienza... 220... E' sicuro... E' sicuro... Eh... L'ho affrontata questo... Maledizione... Dai... Va bene... Ti affronto... Ehm... Quattro Pokémon... Vai... No... Non riesco a battere con un po' con fuoco... Dovrei... Usare... Il mio Pokémon Kallenato... In realtà... Vabbè... Ci ho tolto danni eh... Fangata... Non mi fa niente... Fangata... Beh... Io non uso... Poco in... Elettricità... Eh... Non c'è io... Volei... Unico Pokémon di elettricità... Che mi piace... È Pikachu... Leggendari di elettricità... Non esistono... Guarda... È rimasto con poca vita... E quindi... Si usa per cene... Gero Dude... Morto... Addio Gero Dude... Gero Dude... Vuoi cambiare Pokémon? Si... Machop... Orienta... Vai Machop... Mi metti contro... Monferno... Tocca a te... Mi metti contro... Mi mani... Mi mani... Mi ha sesso... Pokémon... Sei cos'è... Cosetto... Tè... Avrei un bel ruoto a fuoco... Per poco 22 Bidolf Cosa? Tutti roccia e rotta Per ogni montagna Questo Tu non sei degno Quindi perciera Ma forse mi potrei 22 No Da c'è Dai che arrivi al 22 No Che sfiga Dai prendiamo Attacco Vabbè affrontiamola Adesso siamo qua Alleniamoci Pocamo Vabbè usi solo un po' Ok te l'ho shotto questo Tu con derba Con il fuoco Un 14 Non ci intero Quasi un 22 Basta una Una lotta Infatti Shottato Livello 22 Livello 22 Dove sto Dove sto a salire di lì Pokéball Fortuna Oddio Nel'altra Dove sto a salire di lì Se Pokémon serbatica Un belu Io so che a te Non ti prenderò mai Tu sei il 9 Rispetto a lui che sei 22 Che li puoi fare Prima Vuoi vedere una cosa Che poco Non sembrati ci sono Allo shotto Con una mossa Beh Proviamoci Mi usi Rugito Beh questo Al prossimo Lo vedete già 22 Quindi si evolverà Pokémon Usa Speriamo di avere Un quarto Pokémon K2 1 2 No Ho uscito Borsa Pokéball Usa Shift 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 Mi amico di giacarsi C'è più possibilità Oh Ho già maletto Vediamo Ultimo Tentativo Ok Basta 18 Ah si Provo Usare la Schoolable Ci provo Ma anche se non funziona Schoolable Vediamo se ti piace di più La Schoolable No Non ci credo No L'ho preso Con la Schoolable La Schoolable Oggi si è fatta Get to Down Date Breezer Sono E' Poverse Ok Ok L'ho preso L'ho preso No No Uffa Forse in quella casa ci curiamo i Pokémon Questo dovrebbe avere un Piplup Si lo sapevo Mi ricordo ancora con la cosa Abbiamo fatto poco E' curarci Lì Poi anche la ruota fuoco Anche se un po' con la cosa non funziona Ma qui c'è ancora Thorish Vai, metta la vita La beccata mi fa la madre Beh, no E dice che sei bel ficato Se mi hai fatto niente Vai, via Piblac Molto No, che offesa Eh, vincosso Mi devo ricompare un po' di sfere Quei fortuna Superpassione Beh, la Vediamo se mi conosco Comunque C'è l'etere Mi conosco Vuoi riposarsi Eh Ok, grazie Signora Ora In teoria Dovrei entrare nel bosco Ma una parte che ci Conviene fare nel prossimo video Il video è finito qui Mi ho messo tutto Arriveder Ok, grazie a tutti dovrei п